benvenuti sul mio canale oggi vi insegnerò a fare il cegno partiamo da un quadrato e si mette questo dato e lo mettiamo e anche capovolgiamo calma ok finiamo questo è l'altro ne vediamo qua facciamo lo stesso lato questo lato ma formare una nizia così ma diciamo e facciamo poi prendiamo questo lato e lo mettiamo qua anche questo da formare il famoso triangolino e anche d'altra parte così poi prendiamo questo qua lo mettiamo a figlio dico così vediamo tutti in giù adesso lo vediamo in giù e questi vediamo in giù una volta fatta questa figura spieghiamo in giù così vediamo questo lato e lo mettiamo qua poi poi pressa poco a tre dita così andiamo a prenderlo in su così andiamo a parte aperta facciamo il collo l'ultimo passaggio prendiamo questi angolini qua le mettiamo proprio dentro e anche di qua ok e rientro ok per i cilini è fatto ciao 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 ciao